Si sapeva, la scienza aveva già da tempo ipotizzato il possibile arrivo di una pandemia, ma la crisi economica ha condizionato gli investimenti nella sanità, determinandone un progressivo depotenziamento. Per Massimo Agostini, membro della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica delle Marche, il vero problema sta nella capacità di programmazione e organizzazione del sistema paese. Nessuno è stato con le mani in mano, ha precisato il dottore, ma questa seconda ondata già prevista ci coglie ancora impreparati, ad esempio per le risorse nel settore, le strutture e la carenza di personale. È stato fatto qualcosa, probabilmente però rispetto a quelle che erano le carenze sanitarie croniche, per i disinvestimenti che ci sono stati nella sanità pubblica, probabilmente non sono ancora sufficienti a poter garantire un adeguato rapporto tra la domanda di assistenza e l'offerta sanitaria. In questi mesi, spiega Agostini, si potevano contattare i neolaureati, i medici specializzanti o altre persone da formare per poter garantire la funzione di tracciamento, cioè i contatti dei contagiati, e dar loro un'assistenza a domicilio per non lasciarli abbandonati. Questo vale per tutta la filiera da un punto di vista socioassistenziale, come per esempio i trasporti. È chiaro che se io riduco l'attività scolastica perché mancano i trasporti, forse si doveva programmare meglio questa cosa. Era impossibile realizzare degli ulteriori mezzi in modo tale da garantire non un affollamento dei mezzi pubblici. È giusto, ha proseguito il dottore, tentare di limitare la diffusione del virus, perché se riusciamo a mantenere le curve epidemiche basse, le strutture sanitarie riescono a rispondere meglio alle esigenze. Altro problema inoltre sono gli effetti collaterali. Se io intaso alle strutture sanitarie, creo delle difficoltà alla cura, alla diagnosi, alla prevenzione di tutte altre patologie. Il decreto quindi per Agostini è stato necessario, anche se alcuni provvedimenti, ha detto, non sono comprensibili, come quelli che riguardano la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Erano necessari più controlli. Si sta avvicinando il natale. Probabilmente questo provvedimento, così come è stato anche spiegato, serve ad attenuare le curve epidemiche e quindi con responsabilità dobbiamo accettarlo, in modo tale da poter passare quella che è la parte natalizia in maniera un po' più serena e tranquilla. Tenendo ben presente che la paura e l'ansia sono per me dei fattori di rischio estremamente importanti che incidono sulla salute delle persone. Quindi bisogna sempre mantenere un atteggiamento più possibile di serenità, facendo comprendere ai cittadini, perché questo è l'elemento vincente, perché ci sono certi provvedimenti, a cosa servono e la loro utilità, altrimenti si crea confusione.